Ed ecco un altro tratto dal sentiero, non lo so, la altezza dovrebbe essere 6.000 metri, ma è che ora mi sta cominciando un po' più cicà. Qui sotto giù, a circa 150 metri, c'è un piccolo vallone e c'è la strada disastrata della Cunicella e Cundicella e Cunicella. Questo è il sentiero storico dove, nel corso degli anni di millenni, è stato quello maggiormente trappicato a questo. Praticamente domani, 2 aprile 2024, sarà la partenza, la piazza Umberto I, del comune di Luca dei Marsi, del triale della Dea Ancizia, per corso di 18 chilometri, si parte la piazza Umberto I, via Santa Maria, via del monte, e poi si imbocca le pendici del monte Penna. Adesso in questo momento ancora sono sul monte Penna, ecco l'altro segnale di, che hanno messo gli organizzatori del triale della corso in montagna. Quindi, la metà propessa è la corso in montagna, il monte è bello. Pochi sanno che è la Lampor, di cui ho fatto parte, la società qui, sopra c'è un'immensa pineta. Poi siccome non tutti vanno là sopra, veramente il polmone verde di Luca dei Marsi. A proposito.